Una vera e propria rilettura documentale della storia che ha caratterizzato lo sviluppo storico del Mezzogiorno è la questione meridionale. Parla di questo e molto altro il testo in nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II del giornalista Michele Cristallo che ha presentato il suo lavoro all'interno della Sala Rossa Vittorio Palumbieri di Barletta nel corso del Maggio dei Libri. Un percorso che nella storia che ha cambiato certamente l'Italia, l'ha cambiata nel nome proprio di Vittorio Emanuele II come se fosse una sentenza, Vittorio Emanuele II all'epoca ha sentenziato che il Sud doveva diventare più povero il Sud doveva essere annesso al Piemonte e che il Sud avrebbe subito tutte le conseguenze del nuovo regime e un regime che nei confronti del Sud è stato estremamente penalizzante. Un salto nella storia per comprendere cosa sia accaduto in quegli anni di passaggio dai Borboni ai Savoia un salto nella storia per capire le ragioni più profonde di un ritardo al quale il mezzogiorno continua a pagare d'azio quotidianamente. L'aspetto finanziario è particolarmente pesante perché all'epoca siccome il Piemonte aveva un bilancio disastrato ha requisito tutti i fondi del Banco delle Due Sicilie, quelle del Banco di Napoli ha requisito la Zecca, ha spostato la Zecca da Napoli a Torino, non soltanto ma poi ha esteso al Sud il sistema fiscale che era il più penalizzante d'Europa mentre con i Borboni c'erano delle barriere doganali che favorivano lo sviluppo soprattutto della piccola industria e dell'industria manifatturiera. Durante il dialogo tra l'autore e il giornalista Renato Russo particolare attenzione è stata posta alla storia di Enrico Cialdini militare sabaudo giunto nel mezzogiorno all'indomani dell'unificazione della penisola per normalizzare il fenomeno del brigantaggio. A Barletta, al generale dei Savoia, è intitolata una delle vie principali del centro storico barlettano ma da più parti si chiede una revoca da parte dell'amministrazione comunale per via, secondo lo stesso Michele Cristallo di una guerra che fu un vero e proprio crimine contro la popolazione civile meridionale.